Questa è la formazione titolare del Manchester United, con Jones difensore centrale, posso iniziare a bestemmiare, questa è una scommessa Davide, questa è una scommessa, se Jones fa una partita da sette e mezzo, io mi vado a comprare la maglia di Jones. Ma a sette e mezzo proprio da chi? Da te? No a sette e mezzo sulle pacelle, The Sky, Zione Greenwood lancia lungo proprio per Cristiano, Cristiano va su Cavani, il Cavani non sta toccando una palla, ma il c***o ha preso, ma vuole giocare, ma gioca di merda! Attenzione, contropiede, con Trincao, che coglioni, ve lo aspettiamo che fargli tirare! Attenzione, attenzione, mi sa che per fortuna ora, ma ci svegliamo, Giulio, ci svegliamo, scotte porca madre! Fai una partita fatta bene e tre sbagliate, porca madre! Va su Greenwood, Mason, Mason, su Bissaka, Bissaka, cross in mezzo, Ronaldo la sfiera a porta vuota! Porca madre! Jones che lo chiude! E parte il contropiede lo United con Cavani, che fa una finta, doppia finta, che c***o fai? Cosa c***o fai? Cristo! Ma come se fa gioca così? Ma ci svegliamo? Guarda, l'unico che corre, c'è 40 anni già! Scioli per a Cavani, Cavani libero a destra! C'è Mason, Cavani, c'è la Mason! Finito il primo tempo. È cominciato il secondo tempo, vai! Va al calcio di punizione, il Wolverhampton. Ascotte, porco zio, torna indietro con i piedi! Attenzione! Saiz, Saiz, Traversa! Che buio le c***o! La decine è merda! Mamma mia, la seconda squadra di Manchester, che buio le c***o! Ragazzi! Sì, ma Traversa, però aspetta! Era precisa, raga, era precisa! Attenzione, Rupert Neves ha la possibilità del tiro, non lo fa! Va dall'altra parte per Semedo, Semedo è libero ad Amatrori, ad Amatrori fa lo scambio con Semedo, Semedo va al cross in mezzo, Rashford viene superato, ritorna Marcus, Semedo allora rientra, Pecio Amutigno, Cavani la butta su, guarda come c***o giochiamo, guarda come c***o giochiamo, guarda come c***o giochiamo, guarda come stracazzo giochiamo. Jones che va a recuperare una palla incredibile, Rashford, Rashford, lo punta, Rashford! Sei incafonato, Rashford! Ma che c***o fai? Fabio Silva che entra, tocca il primo pallone, lo azzecca bene, va su Ad Amatrori che sa che è veloce, sa che è veloce, Ad Amatrori prende questo pallone e punta Shaw. Attenzione perché Shaw è stanco, Shaw è stanco e soppica! Jones ancora che esce, Shaw Amutigno, goal 1-0. Purtroppo per te Sir è meritato sto vantaggio, secondo te? Sì. Jones che si libera dell'attaccante e va in contropiede, Marcus Rashford, Rashford c'è dall'altra parte, c***o fai! Ma c***o fai! Calcio e punizione è al limite perché Jones viene abbattuto! Calcio e punizione è al limite! Calcio e punizione, calcio e punizione quindi, proprio Fernandes fa la battuta. Mamma mia che parata che ha fatto il portiere! Su Bruno? Sì, finita. 1-0 Wolverhampton.